In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur. Maria Sede Sapientie, ora pronobis. Carissimi fedeli, continuiamo la lettura dell'Imitazione di Cristo. Libro I, Capo III Della verità insegnante Felice chi è ammaestrato direttamente dalla verità, non per mezzo di figure e di voci che passano, ma quale essa è. La nostra opinione ed il sentimento nostro spesso ci inganna, e poco ci vede. A che giova il grande e sottile disputare di cose occulte ed oscure, di cui non ci sarà fatto rimprovero nel dì del giudizio se le avremo ignorate? È questa una grande stoltezza, che neglette le cose utili e necessarie, volontariamente ci occupiamo delle curiose e dannose. Abbiamo occhi e non vediamo. E a che curarci dei generi e delle specie? Quegli a cui parla il Verbo Eterno è liberato dalla molteplicità delle opinioni. Da questa sola divina parola derivano tutte le cose, e tutte le cose parlano una cosa sola, e questo è il principio che parla pure a noi. Senza di esso nessuno intende, né giudica rettamente. Quegli per cui tutte le cose sono una cosa sola, che riduce ogni cosa all'unità, e nell'unità delle tutte le cose, può essere stabile di cuore e riposare nella pace di Dio. O verità di Dio, fammi una cosa sola con te, in perpetua carità. Spesso me è grave leggere ed ascoltare molte cose. Quanto più altri è raccolto in sé ed interiormente semplificato, tanto maggiori e più alte cose intende senza fatica, perché riceve dall'alto il lume dell'intelletto. Lo spirito puro, semplice e stabile, non resta dissipato dai molti affari, perché fa ogni cosa ad onore di Dio. E si sforza di non cercare in nulla sé stesso. Qualcosa ti impedisce e molesta di più che la tua immortificata affezione del cuore? L'uomo buono e devoto dispone prima al di dentro le azioni che deve fare al di fuori. Ne esse traggono lui a desideri della viziosa inclinazione, ma le piega egli al criterio della retta ragione. Chi ha battaglia più aspra di colui che si sforza di vincere sé stesso? E questo dovrebbe essere il nostro affare, vincere noi medesimi, diventare ogni giorno più forti e progredir qualche cosa in meglio. In questa vita ad ogni perfezione va congiunta qualche imperfezione, ed ogni nostra speculazione non è scevra di qualche nebbia. L'umile conoscimento di te è via più sicura per salire a Dio che non la profonda investigazione scientifica. Non è da incolparsi la scienza o qualunque semplice cognizione di chi che sia, buona per sé stessa ed ordinata da Dio, ma è sempre da preferirsi una buona coscienza ed una vita virtuosa. Ma perché molti si curano più di sapere che di vivere bene, perciò errano spesso e portano quasi nessuno o ben piccolo frutto? O se usassero tanta diligenza nell'estirpare i vizi e nell'innestare le virtù, quanta ne mettono a muover questioni, non vi sarebbero tanti mali e scandali nel popolo, né tanta rilassatezza nei conventi. Certamente quando verrà il giorno del giudizio non ci sarà domandato che cosa abbiamo letto, ma che cosa abbiamo fatto, né quanto bene abbiamo parlato, ma quanto religiosamente abbiamo vissuto. dimmi, dove sono ora tutti quei signori e maestri che tu ben conoscesti quando ancora vivevano e fiorivano negli studi? Le loro prebende sono già possedute da altri e non so se questi pensino a loro. Vivi sembrava che fossero qualche cosa ed ora non se ne parla più. Oh, come passa presto la gloria del mondo! Volessei Dio che la loro vita fosse stata d'accordo con la loro scienza. Bene allora avrebbero studiato e letto. Quanti si perdono per vana scienza nel secolo poco solleciti del servizio di Dio e perché preferiscono essere grandi anziché umili si disciolgono a guisa di fumo nei loro pensieri. Grande veramente è colui che ha grande carità. Grande veramente è colui che è piccolo in sé ed ogni più alto onore tiene per nulla. Savio veramente è colui che tutte le cose terrene reputa immondezze per guadagnare Cristo. E veramente è ben dotto colui che fa la volontà di Dio e rinnega la propria. Laudetur Iesus Christus semper laudetur in nomine Patris et Filii e Spiritus Santi Amen